Il mio gusto estetico è un po' offeso di fronte alle visioni di tanti giovani meno giovani, i quali si riempiono di pendagli, di buchi al naso, di buchi nelle sopracciglia, di buchi nella lingua dove avvitano degli anelli strani, sono tutte queste cose che non capisco sino in fondo. Come non capisco sino in fondo, proprio da un punto di vista estetico, questa mania di tatuarsi, perché si dimentica spesso che il tatuaggio è qualcosa che dura da qui all'eternità, cioè dal momento in cui te lo fai sarà molto difficile toglierselo. Tecnologicamente parlando poi il tatuaggio se si fa nei polsi delle braccia crea degli enormi problemi se qualcuno vuole dotarsi degli strumenti tecnologici più avanzati come gli iwatch o i vari orologi tecnologici, perché sembra proprio che i pigmenti dei colori del tatuaggio sul polso determinino il cattivo funzionamento di questi orologi elettronici, quindi state attenti a farvi i tatuaggi se siete tecnologicamente avanzati. Grazie a tutti.